Mi chiamo Giuseppe Mario Finocchiaro, vivo in provincia di Catania, Sicilia, Italia. Mi sono laureato in Flaudotraverso nel 1992, presso il Conservatorio Vigenzo Pellini di Catania, sotto la guida della professoressa Cosentini, e da allora svolgo intensa attività concertistica, sia come solista che come camerista, in Italia e in tutta Europa. Oggi ricopro il ruolo di docente ordinario della Cattedra di Flaudotraverso presso il Liceo Musicale Statale Turistico Lonna di Catania. Mi dedico anche alla composizione di brani per flauto, collaborando con compositori contemporanei e con l'etichetta discografica Musitalia. Oggi vi ospito nel mio studio per parlarvi dell'Accademia Internazionale Flaudistica diretta egregiamente dal maestro Leonardo Grittani. Io, fino a poco tempo fa, avevo grosse difficoltà a parlare in pubblico, a stare davanti una telecamera. Mi bloccavo, non riuscivo a parlare, non riuscivo a dire nulla. Oggi, piano piano, questo problema lo sto superando. A livello flautistico, era una grossa sofferenza. Non riuscivo ad avere una buona respirazione. Non riuscivo a memorizzare delle semplici frasi. E quando mi capitava di suonare in pubblico, avevo grandi timori. In Accademia, in quest'anno accademico appunto, questi problemi li ho superati. Infatti oggi ho una buona respirazione profonda. Oggi riesco a suonare e riesco a memorizzare dei brani lunghi senza nessun problema, senza nessuna difficoltà. E riesco a suonarli in concerto. E riesco a suonare davanti a un pubblico senza timore. Perché qui tutto ciò? Perché in Accademia si parla di neuroscienze applicate allo studio flautistico. Quindi, tecnica neuroflautistica, tecnica neurorespiratoria, tecnica neurointerpretativa e sviluppo mentale. Tutti argomenti che per me erano sconosciuti, ma che mi hanno aiutato a trovare una strada. Oggi questi argomenti io li tratto nel mio lavoro ai miei studenti, ottenendo dei risultati positivi. Dunque, io dico a tutti, a chi volesse intraprendere lo studio in Accademia, di farlo senza nessuna remore, di iscriversi e troverà la sua strada. Lo studio che il maestro Grittani ha associato alla piena consapevolezza del ruolo della mente come forte strumento di crescita e potenziamento personale ha grande importanza affinché si realizzi uno sviluppo tecnico e musicale omogeneo e davvero libero da limite. Grazie sempre al maestro Leonardo Grittani, a cui va la mia profonda stima. Grazie a tutti.